Ben trovati al NOTES di Antenna 3. Diamo subito uno sguardo insieme, come di consueto, agli appuntamenti dei prossimi giorni. Apro la puntata di quest'oggi segnalandovi che il 24 e il 25 febbraio a Santa Lucia di Piave c'è Benessere e Bio, la fiera più importante del Triveneto, nata per far conoscere sempre di più il settore del benessere biologico, naturale e biodinamico. In programma ci sono convegni e laboratori, troverete prodotti naturali e per la cura della persona, spezie, tessuti, discipline del benessere, erboristeria, medicina naturale e ancora i maestri del massaggio, artigianato, prodotti biologici e molto molto altro ancora. Insomma un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati o per chi vuole avvicinarsi per la prima volta a questo mondo. Nel 1931 il varo dell'Amerigo Vespucci. La gloriosa esistenza di uno dei più bei velieri di sempre cominciò tra le acque su cui si affaccia l'antica colonia romana di Stabia, nel tratto meridionale del Golfo di Napoli. Sintesi di tradizione e modernità è oggi un simbolo dell'eccellenza italiana. Col passare del tempo aumentò il suo prestigio diventando la nave militare più anziana ancora in attività e presenziando a importanti cerimonie nazionali. Non sprecate il vostro pensiero per coloro che non vi apprezzano. Daniela Cesta La curiosità del territorio di oggi ci porta a scoprire l'oasi naturalistica Cave di Noale. È un'importante area protetta dell'entroterra veneziano. Si tratta di una zona umida, costituita da numerosi laghetti e ricca di flora e fauna caratteristiche. Originatasi grazie ad un processo di rinaturalizzazione spontanea, in seguito alla dismissione della storica attività di escavazione di argilla che andava a rifornire la vicina fornace Cavasin rappresenta oggi uno dei più importanti siti naturalistici della provincia di Venezia dove è possibile passeggiare a stretto contatto con la natura e dove è possibile anche osservare grandi quantità di specie vegetali ed animali in particolare uccelli come Aironi, Martín Pescatore e il falco di Palude. Dal Notes di Antena 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci.